Il collegamento della mixzone del Curi, allora prima D'Averso ha parlato di poca cattiveria da parte vostra, lei è d'accordo? Cosa è mancato a questo Parma oggi? Sì, penso che il Miss è analizzato bene, ci è mancato la cattiveria, si può parlare di tante cose, di cose abbiamo sbagliato, di cose fatte bene, ma alla fine la realtà è che comunque il Perugia ha meritato di vincere, ha espresso un ottimo calcio e noi siamo mancati sotto l'aspetto della cattiveria, perdendo quasi tutti i duelli personali, quindi bisogna comunque resettare tutto, fortunatamente l'unica cosa positiva è che si gioca fra tre giorni e quindi bisogna resettare il tutto e pensare all'Empoli che è un'altra squadra tosta e basta, quindi alla fine c'è da prendere ben poco di oggi, anzi chiedo scusa comunque alla gente da Parma che è venuta perché comunque hanno visto non un bello spettacolo e quindi sicuramente faremo del nostro meglio per risolvere la situazione già da martedì. Dal punto di vista fisico cosa non ha funzionato? Corrivate forse di meno del Perugia, questo ci è sembrato dalla tribuna? Ma guarda il correre no, il correre no perché anzi alla fine del secondo tempo secondo me è il Perugia un po' che secondo me è calato e noi siamo venuti un po' fuori, è normale che dopo quando entri nel secondo tempo per riaggiustare una partita e poi dopo un po' prendi il 2-0 su un errore nostro e alla fine vai sul 2-0 e fa fatica contro questo Perugia a riprenderla. Quindi c'è da migliorare tanto, da domani inizieremo ad analizzare le cose che sono andate storte e ce n'è tante. Quindi vediamo cosa succede, non penso sia una questione fisica o di altro, è solo una questione di cattiveria, di poca lucidità bisogna capire che non siamo più in Lega Pro ma in Serie B che è un campionato molto difficile e non bastano solo i cognomi dietro le spalle per giocare le partite ma ci vogliono gli attributi sotto cose che a noi non ci sono mai mancati ma oggi sì bisogna ritrovarli. Emanuele Craiovi ascolta un'ultima domanda da studio. Sì, sicuramente sì, il primo tempo è da dimenticare perché abbiamo perso tutti i duelli personali col Perugia sono stati meritatamente in vantaggio e nel secondo tempo sicuramente abbiamo creato di più perché sicuramente ci siamo messi con una sorta di 4-2-4, eravamo con due punte centrali e quindi abbiamo fatto un 2-2 contro i difensori e un 2-2 sugli esterni e qualcosina in più abbiamo creato. Siamo stati anche sfortunati perché si vedeva che non era giornata oggi, due pali nella stessa azione non si è capito niente, altre occasioni sprecate per poterla riaprire ma non è andata così. Quindi niente, ti ripeto, l'unica cosa positiva è il fatto che giochiamo fra tre giorni e possiamo dimenticarci di questa frenata.